il pallone centrale e affetta la difesa del Palermo e finora non l'ho affatto occhio a Miccoli, palla per Simplisio, limite dell'aria Simplisio in mezzo per il tedesco gol, gol, gol ha sfiorato veramente il Royal Rumble, la rissa reale qui al Barbera pallone in profondità, Balzareti in posizione regolare Simplisio, pallone in bucato in mezzo per Miccoli il tiro, respinto sotto porta Camoni gol, gol dietro per Guana, il pressing di Ragazzu riesce a girare il pallone Guana con la punta del piede per Nocerino che si muove in orizzontale, vuole la profondità per Succi e la di rigore, Succi, gol gol Succi, 5-1 lo avevamo detto, il Palermo era ancora velocemente con la testa della partita e l'azione in verticale che ha portato al tocco in profondità per Succi che in area di rigore con l'esterno ha freddato Marchetti